Siamo all'interno del nostro manufatto che abbiamo trovato prima, l'indato, e come vedete questa era una camera, molto probabilmente da queste cose, era una camera di comando, infatti era molto grande, era molto alta e aveva le scale che portavano al secondo piano, come vedete, adesso le vediamo, ok, vediamo, facciamo le scale, una, due, tre, quattro, cinque, sei gradini, da qui c'è un'altra uscita e qui c'è una discesa con un altro ripostiglio, come vedete, adesso arriverà Don Claudio e qua c'è un'altra uscita, e qua c'è l'uscita che va direttamente nelle trincee, come vedete, prosegue nelle trincee e scende la valle.